Nella vita di qualunque nazione viene sempre un momento in cui restano solo due scelte, arrendersi o combattere. Noi sappiamo cosa deve essere fatto, tutto ciò che manca è la volontà di farlo. Chi priva gli altri della libertà è prigioniero dell'odio e le catene imposte ad uno solo di noi pesano sulle spalle di tutti. Non c'è nessuna strada facile per la libertà, ma ricordate, un vincitore è sempre un sognatore che non si è mai arreso. Grazie. 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 Grazie.